Palestre sì, palestre no, di aperture come quando siamo andati avanti, siamo tornati indietro. Di sicuro oggi la situazione è chiara, quella presa dal governo di Draghi. Proprio sulle piscine ne parliamo insieme a Stefano Palazzo di Swim Biz. Ciao Stefano, benvenuto a Sporting Club. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te. E allora ho un tuo pezzo appunto sul portale di riferimento, uno dei maggiori appunto di quanto riguarda gli sport acquatici, perché Paolo Barelli, presidente della Federnuoto della Camera dei Deputati, insomma oggi ha detto la scomparsa di queste piscine al chiuso che riapriranno solo dal primo giugno, perché all'aperto invece ripartono a maggio. C'è una differenziazione sugli altri sport, perché Stefano, 500 persone, impianti al chiuso, per quanto riguarda il pubblico, 1000 impianti all'aperto tenendo conto del 25%, abbiamo detto anche prima della pubblicità, le piscine all'aperto sì, le piscine a chiuso no, o meglio solo da giugno. C'è stata una lettera inviata appunto a Draghi da parte del presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Federica, proprio su questo tema. Ora è come se questa situazione fosse stata un po' dimenticata dal governo, o meglio fosse stata presa una decisione un po' forzata e Barelli è andato lì a tuonare appunto nella Camera dei Deputati dicendo come se noi, no, di queste discipline acquatiche, in particolare degli sport al chiuso, fossimo noi, insomma, coloro che diffondono il Covid. Ecco, come la pensi tu su questo? Noi ci stiamo attenendo a quelle che sono un po' le notizie date dal governo, dall'ultimo DPCM appunto che sarà pubblicato prossimamente. Stefano? Allora guarda, è una situazione paradossale, perché soprattutto in queste ultime news, diciamo non è nulla di definitivo, però almeno dalle famose slide che sono state applicate dal Ministero, dice chiaramente che le piscine all'aperto possono aprire dal 15 maggio, le palestre dal primo di giugno, ma non si accenna alle palestre a chiuso, cioè la parola palestra, perdonami, le piscine a chiuso, la parola piscina a chiuso sono state assolutamente dimenticate, non si è capito il motivo. Per questo ieri l'onorevole Barelli quando è andato nel question time durante la discussione in cui si veniva praticamente a conoscenza di quali erano le nuove norme e si è notevolmente arrabbiato, ma d'altra parte passare per un tori, cioè le piscine a passare per un tori è un assurdo, considerando che proprio noi di Swimbitzi siamo stati prima a pubblicare una relazione che l'Università Inglese di Londra praticamente hanno verificato che il Covid, una volta che una persona diciamo che è il Covid, entra a contatto con l'acqua clorata della piscina, dopo 30 secondi il Covid si inattiva, questo ti fa capire che assolutamente non può essere la piscina il luogo da dove nasce tutto. E ricordiamoci fondamentalmente che lo scorso anno, dopo il primo lockdown che hanno dato la possibilità di riaprire le piscine per poter fare le lezioni individuali, proprio le piscine sono state date delle restrizioni abbastanza serie, tipo distanziamento che doveva essere dai 5 ai 7 metri, tutti i vari percorsi per cui praticamente si facevano le verifiche prima di fare entrare le persone in acqua, il non utilizzo degli spogliatori degli spazi comuni, cioè tutto questo che è durato praticamente da settembre ad ottobre, da ottobre questa cosa è stata assolutamente chiusa, hanno chiuso praticamente tutte queste attività e ora praticamente scopriamo che il 26 di aprile gli sport di contatto possono tornare a essere diciamo praticati, quindi per assurdo il calcetto. Il calcio amatoriale all'aria aperta possono, senza l'uso degli spogliatori si può tornare a giocare in zona gialla dal 26 di aprile. E in una piscina no, e consideriamo anche un'altra cosa importante che proprio lo scorso anno i NAS hanno fatto più di 80 controlli nelle piscine da luglio ad ottobre e non hanno riscontrato assolutamente nessun tipo di anomalia nel senso che sono state seguite tutte le regole perché ovviamente un gestore di una piscina ma anche di una palestra immagino ha tutte le intenzioni di tenere diciamo l'ambiente il più pulito e il più sicuro possibile proprio per evitare una possibile una possibile chiusura per cui diciamo che vuol dire tanto, che vuol dire tanti quattrini perché questa poi è la storia no? Perché tenere chiuso vuol dire ogni mese pagare bollette, affitti e via dicendo e sappiamo come ristori verso le ASD e SSD non colmino quelli che sono appunto le spese. Comunque a palestra chiusa continua a produrre denaro no? Cioè o meglio a costare ecco l'impianto. Scusa Stefano vai. Sì sì assolutamente le spese ci sono sempre e poi per assurdo una piscina che ha ovviamente un come minimo una piscina da 25 metri con sei corsie ha un volume di acqua talmente alto diciamo talmente grosso da poter sostenere a parte i costi dell'acqua ma c'è il riscaldamento gli impianti di depurazione quindi hanno dei costi, vengono prodotti costi in continuazione che ovviamente con avere la possibilità di avere i notatori agonisti che si allenano che sono comunque un ristretto numero non riesce a giustificare ovviamente queste aperture per cui oltre al danno la beffa cioè praticamente scoprire che la parola piscina al coperto nel nuovo DPCM. Infatti Badelli ha usato il termine siamo spaditi siamo spaditi. Assolutamente sì assolutamente sì e devo dire che per fortuna che diciamo c'è stata questa iniziativa da parte del neopresidente delle regioni praticamente quella di portare questo tipo di diciamo di domanda nonostante ieri anche appunto Badelli lo abbia chiesto espressamente a Speranza a Roberto Speranza di avere comunque una risposta perché il problema è che noi risposte a queste questioni non ne abbiamo ancora avute oggi. Senti Stefano c'è anche un altro tema quello più spettamente politico che la Lega si è insomma si è un po' messa di traverso dai diciamo così su questa richiesta di slittare l'orario del coprifuoco dalle 22 alle 23. Cosa implica un ora? Beh implica tanto innanzitutto sui ristoranti su alcuni esercizi commerciali appunto andare a cena al chiuso qua stiamo parlando sempre di giugno perché mi sembra che questo DPCM duri fino praticamente al fine di luglio se non sbaglio. Fino al 31 luglio. Esatto fino al 31 di luglio quindi ricordavo bene quindi andare a cena insomma andare a stare a casa le 22 alle 23 d'estate cambia veramente tanto e io qui aggiungo anche per quanto riguarda gli impianti sportivi perché vuol dire che tu ti devi allenare entro una certa ora per poi restare a casa entro le 22. Sì assolutamente sì diciamo questo discorso che tra parentesi le stesse regioni avevano votato avevano inserito come quando c'è stata la conferenza con lo Stato qualche giorno fa avevano all'unanimità tutte le regioni avevano chiesto di fare questo slittamento dalle 22 alle 23 proprio appunto in previsione andiamo di fronte all'estate per cui ovviamente si allungano anche i tempi ci sono più ore di luce per cui avere la possibilità anche per chi lavora faccio l'ipotesi chi lavora io ho un lavoro il mio lavoro praticamente lo termino alle 20 se avessi voglia di andare a nuotare non avrei nemmeno il tempo di poter andare nella piscina più vicina a casa mia per buttarmi in acqua cinque minuti e poi stare a casa entro entro le 10 che è un assurdo spostarlo alle 23 ovviamente ti permette di guadagnare un'ora in più che veramente fa tanto per tutti dai ristoratori assolutamente anche all'Italia. Sono d'accordo che poi hanno detto dal governo appunto che in maniera progressiva si sarebbe andati verso una normalizzazione e il discorso qual è che oggi siamo alle 22 di aprile praticamente tu proroghi per oltre due mesi questo dpcm cioè magari sarebbe stato più insomma dico giusto ma ecco vedere quello che succede da qui a 20 giorni da qui a un mese e poi fare un nuovo dpcm e poi cambiare in corsa è vero che si può sempre cambiare però perché arrivare fino al 31 di luglio questo insomma un po mi sfugge non riesco a capire veramente il motivo se poi dopo con le vaccinazioni si andrà verso una normalizzazione cosa succede? Succede che nel mondo dello sport è un mondo che muove comunque tanti fattori sicuramente i quattrini è un indotto economico in cui lavorano tante persone insomma rimettere in moto una macchina che è stata ferma per tanti e tanti mesi almeno da novembre insomma vuol dire tanto vuol dire tanto vuol dire tornare alla normalizzazione vuol dire per le persone anche avere un'evasione mentale oltre che un discorso di salute fisica cosa pensi tu e anche la tua testata che quindi ringraziamo Christian Zicche sempre molto attento attenti a queste tematiche perché a livello nazionale e internazionale sicuramente insomma questo non riguarda queste sfere appunto dell'alto livello dell'agonismo riguarda le tante persone o anche tanti bambini che vogliono andare a nuotare anche prima dell'estate fare dei corsi prima di approcciare a quello che è il mare esiste anche questo perché la vita la vita quotidiana mi senti Stefano ci sei si era andata via la connessione dicevo cosa cosa voi pensate di quello che potrà accadere nelle prossime settimane ci sarà una controtendenza un ascolto visto che comunque si è mosso anche presidente fedriga voi che siete sempre molto attenti anche alle problematiche della vita comune senti noi non possiamo che pensare diciamo siamo nelle mani della politica come giustamente dicevi tu il problema è questo bisogna anche mettersi la mano sulla coscienza e capire fondamentalmente che c'è una enorme pletora di persone che non sta più soffrendo di attività sportive a partire dai bambini delle scuole nuoto nel nostro caso ma in qualsiasi tipo di sport ovviamente che crea sicuramente molti ma molti più danni del covi di a lungo andare per cui noi non possiamo che augurarci davvero che se questo è un appello che io rivolgo personalmente al sottosegretario sport Valentina mezzali che una grandissima atleta è stata una grandissima atleta quindi capisce perfettamente di cosa stiamo parlando che non possiamo più derogare l'attività sportiva cioè veramente devono capire che bisogna arrivare a un punto in cui bisogna riaprire con tutta la sicurezza di questo mondo ma d'altra parte ribadisco ci siamo già passati lo scorso anno e abbiamo ampiamente dimostrato che comunque in ogni caso le società hanno la possibilità di poter tenere sotto controllo e contenere gli eventuali contagi bisogna ritornare una normalità e questa normalità non la possiamo spostare nel tempo va dato una data certa questa data certa deve essere il più breve possibile ribadisco dal 26 aprile se si può tornare a giocare a calcetto non vedo perché non si possa tornare a votare l'ultima che ti chiedo un po' un tema un tema parallelo perché in questi giorni abbiamo visto anche sui social della sottosegretario appunto vezzali eh l'erogazione da parte di di sport e salute eh dei dei quattrini verso gli ehm appunto eh i lavoratori sportivi ma non solo perché eh proprio Draghi anche l'altro giorno ha detto che eh a quella data erano stati dati oltre due miliardi per quanto riguarda eh il insomma i i decreti eh e i ristori scusate più che decreti no i i sostegni e e i ristori però eh insomma c'è stato qualcosa rispetto a al alle precedenti precedenti decreti sostegni quindi eh emissioni di denaro nel nei conti dei lavoratori sportivi insomma non so se hai hai sentito avuto modo di di approfondire Stefano che eh non sono stati corretti è stata data solo una parte eh di di tu sai che adesso ci sono queste differenze no e queste fasce eh si arriva fino ai tre mesi a a 3.600 euro 2.400 1.200 a secondo di quanto hai dichiarato eh di percepire nella prima eh nelle compilazioni della della domanda ecco insomma ci sono stati tanti eh di servizi eh i soldi sono arrivati solo in parte, che pensi anche di questo? È una situazione derivata da una mancanza di fondi, da un ritardo, quindi da un malfunzionamento della macchina burocratica, di un discorso della politica che non sta funzionando come era in precedenza, come la precedente governo, che idea di sei fatto? Per quanto riguarda questo discorso sicuramente c'è stato un intoppo dovuto al cambio di governo, perché ricordo perfettamente che Vincenzo Spadafora poco prima di lasciare il dicastero dello sport aveva confermato che erano stati previsti, era stata prevista l'erogazione del primo trimestre 2021 per i lavoratori sportivi. Questo poi ovviamente si è bloccato, ma credo che questa sia stata più una questione tecnica dovuto al discorso appunto del cambio di governo, perché poi appunto c'è stata la polemica che la Vezzali, chi per lei ha messo praticamente un nuovo personale che gestiva diciamo che gestiva... Sì, però il discorso Stefano qui, poi l'altro poi devo salutare, questo che dici è tutto vero, tutto protetto, però dopo c'è stata un'emissione comunque di denaro dato da questo governo, è proprio che non sono arrivati i soldi che ci si aspettava, cioè chi avrebbe dovuto prendere 2.400 euro, sono arrivati in 1.200, quindi bisogna capire e approfondire magari meglio. Quella fase che dici tu è corretta ma è superata, adesso siamo praticamente proprio a un discorso proprio mero economico. Detto questo io però devo cambiare pagina, quindi ti saluto, ci vediamo magari nelle prossime settimane. Perfetto, grazie tante e ne approfitto per salutare il mio direttore Cristian Zicca che ci sta vedendo e alla prossima. Grazie, grazie a Stefano Palazzo di Swim Beads.